Il timore generale era che con le festività natalizie la curva dei contagi potesse tornare a salire, scenario che purtroppo si sta materializzando giorno dopo giorno anche nel Salernitano, dove il dato dei nuovi positivi sta facendo registrare nuovamente numeri preoccupanti. Nelle ultime ore infatti ci sono stati altri 194 contagiati sul territorio provinciale. Emblematica la storia che arriva da Capaccio Pestum, dove si è verificato un focolaio con 19 positivi. Si tratta di persone che avrebbero partecipato a una festa la notte di San Silvestro, durante la quale si sarebbe propagato il virus sulla vicenda. Sono in corso indagini anche da parte degli agenti della polizia locale. La crescita dei contagi per fortuna non sta rallentando la campagna vaccinale che prosegue spedita a Ruggie negli ospedali della provincia. Ad oggi sono 11.500 le persone a cui è stato somministrato il siero. Entro questa settimana si conta di riuscire a vaccinare tutti i sanitari, per poi partire con l'inoculazione della seconda dose. Mediamente 550 vaccinazioni al giorno, stiamo vaccinando, abbiamo quasi completato il personale della nostra azienda e stiamo vaccinando tutti gli operatori sanitari della città di Salerno. La campagna vaccinale continua non ha avuto nessuna forma di inceppo da questo, anzi ci è stato di stimolo per accelerare ancora di più. Perciò siamo arrivati a questi numeri per vaccinare quanto prima è possibile tutti, anche perché io sono testimone di questo. Io ho dosato gli anticorpi dopo 12 giorni dalla prima somministrazione e già sono presenti, quindi significa che già l'immunità si sta manifestando.